Baveno e la frazione di Ferriolo, Lesa e Belgirate, Castelletto Ticino e il Colle di San Carlo. Sono questi territori di Vicioi Novarese dove arriverà un nuovo parroco, rinnovo di nomine per il clero diocesano decise in accordo con il Consiglio Episcopale Novarese dal Vescovo Franco Giulio Brambilla. In sostituzione di padre Verdina si occuperà delle parrocchie di Baveno e Ferriolo a partire dal 1 di ottobre Don Giuseppe Volpati, già a Baveno da più di 40 anni, parroco di Oltre i Fiumi, dell'Isola dei Pescatori e dell'Isola Bella. Don Francesco Gagliazzi, collaboratore ad Arona, curerà le parrocchie di Lesa e Belgirate, sostituendo temporaneamente, sino ad una nuova nomina definitiva, il parroco Don Massimo Galbiati. Quest'ultimo era giunto a Lesa 19 anni fa, assumendo via via anche la responsabilità delle altre parrocchie, prima Calogna, Comnago e poi Belgirate e Solcio. È stato lo stesso Don Galbiati chiedere un cambio di ministero pastorale. «Ho deciso di accogliere il suo desiderio di avere un tempo congruo per una ripresa anche fisica delle forze, prima di affidargli una nuova comunità», ha spiegato il Vescovo. Don Alberto Brentegani sarà un nuovo collaboratore della parrocchia di Castelletto Ticino, affiancando il parroco Don Fabrizio Corno e il responsabile della pastorale giovanile Don Matteo Balzano. Per vent'anni Don Alberto era stato rettore del Collegio De Filippi di Arona. Con la sua chiusura si era reso disponibile ad un altro incarico. Don Brentegani, già dalla scorsa domenica 26 agosto, ha iniziato il suo nuovo ministero a Castelletto. Dopo il suo trasferimento non ci saranno più celebrazioni in modo continuativo nella chiesa del De Filippi.